bene oggi ci proviamo anche questa qui siamo sempre a treviso e andiamo a fare un giro con lo street fighter sperando di tornare vivi sentite che roba attacca al subito mamma mi ammazzo mi ammazzo madonna ha già iniziato a scaldare fatevi il segno della croce madonna santa ragazzi sei sull'asfalto con la testa mamma mia mia porca tronso più abituato beh mamma santa se di che roba se io questi sono freni cristo santo signore santo sentite come va su sto motore zero secondi in partenza mi sono inchiappato perché la frizione stacca subito non riesco a dirvi niente ragazzi di sta moto ascoltate mamma che cos'è in curva non sono più abituato queste sono le moto che ci piacciono da delinquenti forco tu bay 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 motori dei motori belle moto via sì partiamo in terza tanto cambia qualcosa in che marcia siamo costi motori cambia qualcosa non cambia senti che roba ma non facciamo danni che se gliela devo pagare questa sono foto le moto che ci piacciono anche se sta frizione attacca subito si può regolare che queste sono idrauliche boh ragazzi non avete idea di cosa vuol dire cavalcare il cazzo di mazingha è un treno sta moto è un treno trasforma in binario qualsiasi asfalto che rilascio di dopamina e non l'ho neanche tirata meglio di una scopata senti che freni cazzo che ha questi sono freni speriamo che non vedano mai questo video quelli del concessionario tu pensi e lei fa mi tocca risistemare la raptor non me lo ricordavo mica poi è un burro è tenera come il pane in realtà questo motore non strappa è solo la frizione devo prendere confidenza ma per il resto il motore è molto lineare questa è praticamente la ferrari delle moto è scalda un po è bella sparata in avanti come piace a noi è anticostituzionale non puoi dare in mano una roba così alla persona è anticostituzionale che droga sono troppo vecchio queste robe sono troppo vecchio queste robe cristo santo questa è la terapia di cui abbiamo bisogno questa è la terapia di cui abbiamo bisogno non abbiamo bisogno di nient'altro nella vita un po di adrenalina viene sull'inferno da questa moto c'ho il fuoco tra le gambe non lo posso mica pubblicare sto video c'ho il fuoco tra le gambe non lo posso dire c'ho il fuoco tra le gambe non lo posso dire